Tanto tempo fa nelle campagne della Francia viveva un bambino di nome Gerberto. Gerberto era molto curioso e voglioso di imparare ma aveva la sfortuna di far parte di una famiglia molto povera che non poteva permettersi di mandare il figlio alla scuola della città. Ma i genitori che gli volevano tanto bene e desideravano che i suoi sogni si avverassero lo mandarono al monastero di Orillac. Un giorno un vecchio signore chiamato Borrell si presentò al monastero affermando di essere un conte molto importante che stava viaggiando per l'Europa per imparare cose nuove. Lì fu colpito dall'intelligenza di Gerberto e gli offrì di partire con lui. Gerberto iniziò a visitare molti paesi e a conoscere le loro culture. In particolare si appassionò a quell'araba e scoprì di amare la scienza e la matematica. Quando Gerberto diventò un ragazzo il conte Borrell lo portò a Roma a far la conoscenza del papa e dell'imperatore. Lì l'imperatore ammirando la sua sapienza ordinò alla sua servitù di farlo diventare cortigiano di corte. Gerberto era felicissimo oltre a insegnare i bambini dell'imperatore la sua posizione gli permetteva di aumentare le sue conoscenze scientifiche. Gli altri cortigiani però sempre più invidiosi delle attenzioni e dei complimenti che l'imperatore riservava a Gerberto escogitarono un piano malifico per farlo allontanare. Lo accusarono di essere alleato con il diavolo. Gerberto si ritrovò costretto a scappare dall'Italia e durante la sua fuga venne accolto nella corte degli ottoni in Germania che lo aiutarono a difendersi dalle accuse. Raggiunta l'età adulta Gerberto pensò fosse il momento di ritornare in Italia ma non aveva idea di ciò che lo attendeva. Grazie all'aiuto degli ottoni infatti Gerberto riuscì a diventare Papa e decise di farsi chiamare Silvestro. Grazie a lui vennero introdotto in Europa molte invenzioni arabe tra cui l'abaco e i numeri arabi e ad oggi ricordiamo tra le sue invenzioni complicati strumenti astronomici e musicali come l'organo a vapore, l'orologio notturno e la clessire d'acqua e sabbia utilizzata ancora oggi nei giochi da tavolo. Papa Silvestro II riuscì inoltre a far appassionare le persone di tutta Europa alla scienza e alla matematica e il regno divenne un luogo di grandi scoperte e invenzioni.